Ciao, mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come creare un grafico con una macro Excel. Bene, entriamo all'interno del nostro foglio di lavoro, abbiamo i nostri dati di partenza e ora procediamo ad inserire la nostra macro utilizzando il registratore di macro. Il registratore di macro, come abbiamo visto nel video precedente, andrà a generare del codice che possiamo poi adattare e sfruttare per creare la nostra macro, in questo caso per creare il nostro grafico. Dunque, premiamo il tasto destro sul foglio 1, andiamo a visualizzare il codice, in modo tale da avere l'editor di Visual Basic e vedere quello che succede passo dopo passo durante la registrazione. Bene, andiamo a posizionare meglio quello che è il nostro foglio di lavoro. Dunque, facciamo un clic ora in basso a sinistra per attivare la nostra registrazione. Diamo il nome alla nostra macro, chiamiamolo Crea Grafico. Benissimo, nome significativo. Facciamo un clic sull'ok e ora dall'editor andiamo a fare doppio clic all'interno del modulo 1. Doppio clic su modulo 1, benissimo. Dunque, ora andiamo a registrare. Per inserire il grafico utilizziamo ovviamente la scorciatoia da tastiera Alt F1. Dunque, Alt F1 va a generare il grafico e automaticamente sta generando del codice. Ora, interrompiamo la registrazione della nostra macro, facendo un clic in basso a sinistra, cancelliamo il nostro grafico e ora facciamo delle piccole modifiche all'interno del nostro codice. Innanzitutto, possiamo cancellare anche l'intervallo di selezione C6, poi possiamo fare una piccola modifica all'intervallo all'interno dell'origine dei dati. Possiamo scrivere B4 e poi utilizzando l'autocompletamento possiamo dirgli di utilizzare la regione corrente, Current Region. Ciò significa che partendo dalla cella B4, Excel andrà ad abbracciare l'intera regione di dati. Tutto questo diventerà l'origine dati del nostro grafico. Vediamo a questo punto se il codice funziona, facciamo un clic sul pulsante Esegui macro, ecco, questo andrà a generare il nostro grafico all'interno del foglio di lavoro. Ora, se volessimo definire anche una posizione per il nostro grafico, per esempio decidiamo di inserirlo nella cella a partire dalla cella E4, andiamo a scrivere del codice. Stavolta non utilizzeremo il registratore di macro, ma andremo a definirlo passo dopo passo. Pertanto vediamo che Shapes è la forma, dunque il grafico può essere definito come una forma, dunque gli diciamo, andiamo ad aggiungere shape1 punto non abbiamo il completamento automatico perché si tratta di un oggetto, pertanto gli diamo left left uguale range range aperta parentesi doppie virgolette E4 chiuse virgolette e chiuse parentesi punto da questo punto il completamento ce l'abbiamo punto left dunque a sinistra diciamo che la posizione del grafico ora andiamo a dirgli anche che questo grafico si deve trovare all'interno del foglio attivo dunque la posizione del nostro grafico dovrà trovarsi a sinistra nella cella E4 ancora diciamoli che questa aggiungiamo un attimo un'altra porzione di codice e facciamo che la parte alta dunque la proprietà top la parte alta del grafico dovrà trovarsi sempre all'interno della cella E4 andiamo adesso a eseguire tutto il nostro codice facciamo un clic sul pulsante esegui macro e come vedi il nostro grafico verrà posizionato perfettamente a partire dalla cella E4 ingrandiamo un attimo ecco questo è il risultato bene spero che questo video ti sia utile se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti per rimanere aggiornato e ti aspetto al prossimo video